trek e monda sl 6 2018 vediamo la linea molto racing e molto bassa dietro sul piantone delle reggisella un po più altina avanti questo modello monta l'ultegra e di listino sta tutta così come la vedete con le ruote in carbonio bondrager a 3.200 euro freni moderni a doppio perno sempre bondrager questa monta l'ultegra quello nuovo l'ultimo modello a 11 è un'ottima bici perché è un telaio leggero nonostante ciò a un prezzo contenuto perché quello che vedete ripeto 3.200 euro tutta la bicicletta anche avanti a il freno a doppio perno tutti i componenti manubro attacco manubro freni sono della bondrager così come le ruote lo abbiamo già detto tutta completamente ulterra questa che vede in foto è una misura 52 consigliata per altezza e massimo un metro e 70 passaggio cavi interno queste sono le caratteristiche del carbonio certificata usi che dire ragazzi pollice in su sempre grazie a tutti